L'imberno incede e con esso anche l'influenza stagionale ed è per questo che l'ordine dei medici, chirurghi e tontoiatri di Caltanissetta invita i cittadini a vaccinarsi. Come ogni anno naturalmente la protezione rispetto a ambienti chiusi, rispetto ad altre persone influenzate non a caso negli ultimi due anni per l'uso della mascherina per altre motivazioni ha ridotto pressoché a zero l'influenza. E quindi anche proteggersi l'uno dall'altro è importante pure per l'influenza e poi di fondamentale importanza il vaccino per cui ancora una volta riparte da parte dell'ordine di Caltanissetta l'invito a vaccinarsi. I medici di medicina generale già stanno abbondantemente vaccinando la popolazione, ai cittadini chiedo di aderire alla campagna vaccinale contro l'influenza perché più siamo vaccinati meno circola il virus dell'influenza. Gli ultimi due anni causa Covid, la stagione è trascorsa tra mascherine, distanziamento e restrizioni e adesso si procede verso la normalizzazione del percorso anche grazie alla vaccinazione contro l'influenza stagionale utile principalmente per i soggetti più fragili. Ma l'invito è rivolto a tutta la popolazione a sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale.